Disgaccia che ha un po' sulla bocca di tutti in questo momento, come vi siete avvicinati? Allora Gaccia l'ho conosciuto l'anno scorso, sono venuti lui e Sala in studio da me principalmente perché gli ho scritto e gli ho detto bro mi gasa il tuo viaggio poi lui aveva anche questa roba qua dell'acqua cultura, io avevo l'acqua bell'aria quindi capito un po' mi gasava un po' il mood e dopo l'estate che si era fatto l'anno scorso che stava cominciando a venire fuori gli ho detto bro becchiamoci, lui poi è super preso bene, mi fa bro grande ci siamo beccati in studio da me, abbiamo fatto la cosa che ci ha accomunato che io ero appena tornato dall'America a maggio che siamo andati con Henry da Steph Moro che poi è colui che ha mixato tutto il tape e che ha lavorato a un credito, non so, a Donda di Kanye West tipo una roba come Snoop Dogg, Wiz Khalifa eccetera che lavora in studio con Irko e che appunto comunque siamo entrati a maggio siamo entrati in questo emisfero dove eravamo in questo studio beat in America, in California e praticamente tutto grazie al nostro nerdare pesantemente sulla qualità musicale che comunque è una cosa che non perderemo mai che era una f***